Sei le proposte progettuali che sono state ammesse al finanziamento del Comune Nisseno per i centri estivi del 2022, riconoscendo a ciascuna l'importo di 10.000 euro. Si tratta del progetto De Graffalos Camp 2022 dell'ASDC Naponos, che si svolgerà tra l'atrio della Biblioteca Scarabelli e la Villa Cordova dal 22 agosto al 18 settembre. Gioco, imparo e mi diverto dell'ASD Polisportiva Nissena al Campetto Michele Amari, Portella della Ginestra dal 4 luglio al 31 agosto. Stesso posto e stesso periodo per Viva Caltanissetta 3 dell'ASD Sport Club Nissa 1962. Dal 22 agosto al 17 settembre, invece, a Santa Barbara, tra la villa e lo spazio esterno della chiesa, ci sarà Gioco Anch'io Sport per Tutti dell'Associazione Sportiva Direttantistica Centro Postura e Benessere. Un centro estivo anche nella Villa Medeo. Si tratta del progetto Ci vediamo alla Villa Grande dell'APS sulle ali della musica, iniziato il 4 luglio e che terminerà il 12 agosto. Infine, ammesso anche quello di Lega Ambiente e Facciamo Natura 3, sempre dal 4 luglio al 29 agosto, tra il Parco Dubbini e il quartiere Providenza. Nuove, invece, le proposte ammesse ma non finanziabili e che avrebbero coinvolto la Villa Medeo, il Parco Robinson, la Parrocchia di Santa Barbara, la Biblioteca, il Giardino della Legalità e i campetti Michele Amari e di Via Luigi Rizzo, nonché il Palacannizzaro.